Allora, sei pronto per questa pazzia? Certo, eccomi qui! Ma perché sei conciato così? Oh, guarda che è un abbigliamento da guerriero! Perfetto per sconfiggere i boss! Sì, ma è Fortnite Battle Royale, mica la Royal Rumble in WWE! In realtà, volevo ricordare te che non pure Street Fighter! Cosa? Niente, se sei troppo giovane, non capiresti! Boh, se lo dici tu! In ogni caso, è fuori luogo, visto anche i boss che dovrai affrontare! Boh, secondo me va benissimo! Ma ti ricordi chi sono, almeno? Chi? I nemici, chi? Cioè, tu stai chiedendo a me se mi ricordo dei boss! Ma è ovvio che non mi ricordi assolutamente nulla! Dai, non è possibile! Almeno Oceania, dovresti essertela dimenticata! Il continente? Ma no, dai, il personaggio! Ah, ma certo! Oh, vedi? La principessa Disney! Oddio, aspetta, intendo questa? Ah, ho capito, ma io quella la chiamo in un altro modo! Che cioè? Tipa quella maschera! Ma dai, ma perché? Beh, cosa c'è di sbagliato? Scusa, è una ragazza ed ha una maschera! Mi sembra che è tutto finito! Vabbè, andiamo va! Scusa, e gli altri? No, cominciamo da lei! Uno alla volta, per carità! Gero qua, figaro là! Oddio, si mette pure a cantare! Andiamo che è meglio! Round 1, Taiwan vs. Oceania! Dai, forza che sono carico! Bene, dai, quello mi fa piacere! Ah, ottimo! Qual è la tua tattica? Facile! Atterrare e attaccare! Perfetto! Ottima! Grazie! Se vuoi finire in trappola come un topo... No, secondo me potrebbe anche funzionare! Magari divento io la trappola! Non capisco il senso della frase, ma non sto a perdere tempo! Sai dove atterrare almeno? Beh, si chiama Oceania, quindi immagino sia in mezzo al mare! Più o meno, e dove di preciso? Bah, io mi butto in un punto qualsiasi! Poi prima o poi la beccherò! Certo, sicuramente rimarrà lì tranquilla ad aspettarti! Magari anche con dei segnali di fumo! Davvero? Certo che no! Ah, peccato! Beh, io ho segnato il punto nella fortiglia! Ma come fai a sapere che è lì? Oh, nella schermata di Omer era lì! Ah, vero! Attento, sparano! Via via, loro non ci interessano! Presto, recupera tutto quello che puoi! Aspetta, fammi vedere un secondo! No, cosa fai? Ci sta puntando! Tranquillo, gli spettri bianchi sono come gli stone trooper in Star Wars! Non ti c'entrano mai! Comunque non si sa mai! Avvicina e ti colpisci! Giusto, hai ragione! Assaggia questo fucile! Bravissimo, grande! Perquisiscilo! Forza, dimmi quello che sai! O ti faccio diventare uno spettro per davvero! Hai evidenziato dei bauli? Certo, guarda qui! Uh, non ci credo! Sì, sì! Ora si ragiona! Mi raccomando però, eh! Sempre occhio alla safe! Sì, ma tranquillo! Al limite ho una mia tattica! Cioè? Se arriva la tempesta, mi butto in un molinello e volo via! Come ho fatto l'altra volta, tra l'altro! Ah, purtroppo sono in manutenzione! Cosa? E perché? Alcuni non tornavano più su, eh, li stanno ancora cercando! Eh, ma che roba! Prima si allaga tutto e mo' questo! Dai, ma cambiate idraulico! Ora, occhio sulla missione! Sì, tranquillo! Ehi, ma chi è quello lì con la maschera che mi sta guardando male? Attento, è lei! Oddio, spara, spara! Ah! Ora, ricarica, forza! Un secondo, un secondo, non mettermi fretta! Tu piuttosto cerca di prenderla! Aspetta, recupero con il cura bomba! Ah, sta spaccando il muro come in Shining! Ora, approfittane! Finiscilo! Oh, per caso sto bomba! È a terra! Sì! Ora, finiamola e recuperiamo le armi della principessa! Non è lei! Vabbè, prendi tutto! Certo, certo! Ah, guarda, la chiave elettronica! Ah, deve essere la chiave elettronica della sua stanza! Probabilmente mi voleva invitare! Buon gustaglia! Eh, ti piacerebbe? No, porta il suo cavo! Sarà pieno di armi! Allora, andiamo subito, forza! Aspetta, travestiti o ci saranno tutti addosso! Eh, giusto! Un attimo e... Eccomi qua! Attento, c'è uno! Non avrà il mio tesoro! Eliminato! Perfetto! Ora rubiamo come degli sciacalli! Wow, non ci credo! Siamo messi bene come equipaggiamento! Senza contare che ne mancano tre! Vero! Aspetta, ho un'idea! Mi metto qua un attimo nascosto e aspetta che si distruggano da soli! No, aspetta, si viene tempesta! No! Ed è pure arrivato uno a finirmi! Round 2! Daivano via skin! Bene, fuori uno! Ora è il prossimo! Sai chi è? Eh, se non me lo dici, no? Mmm, è kit! Aspetta, è l'auto di supercar oppure un kit di qualcosa? No, si chiama così! Ah, ma qual è? Mi, Ivano, questo! Ah, oddio, ho capito! Conosci? Certo, ci hai già avuto a che fare l'altra volta, non ti ricordi? Ah, hai ragione, mi ero dimenticato! Beh, allora sai dove buttarti! Aspetta, ma ho realizzato adesso che è un gatto di nome kit! Esatto, e allora? Praticamente è un kit kat! Mi viene voglia di cresciare, guarda! Oddio, c'è un gatto robotico! Oddio, sparagli! Ah, prendi questo pulcioso! È stato facile! Cosa? Perché non ha lasciato le armi? Non ci credo, era uno con la skin! Te pareva, mi sembrava strano che avessi visto giusto! Stai zitto, ha confuso anche te! Sì, ma per colpa tua! Beh, comunque dobbiamo avvicinarci! Prima travestimento! Esatto, almeno potremmo andare tranquilli! Stavolta deve essere lui per forza! Non ci hai riconosciuti, vai con discrezione! Certo, guarda come gli sparo subito! Con l'arma più casinista del gioco! Genio! Dai, forse devo farcela! Sembra confuso! Oh, povero gattino spaisato! Stavolta non mi incanti! Sì, vai! A terra! Bravissimo! Questo è per la figura che mi hai fatto fare l'altra volta! Addio, palla di pelo! Perfetto, fuori due! Ma voglio assomigliare a Miascolo! Sì, è il figlio! Ah, ottimo! Funziona come il mondo reale! Vabbè, recuperiamo tutto e andiamocene! Non dimenticarti del magazzino! Ti hai ragione, facciamo il pieno! Prima cambiati! Sì, sì, subito! Non vorrei mai finire schiacciato da ste scatolette! Uh, guarda quanta roba! Uh, sì! Proprio tanta roba! Ok, andiamo! Via! Sta andando stranamente bene anche questa! Sì, ma non mi sento sicuro! Meglio recuperare del pesce! E perché? Ma come? Per lo scudo e la vita! Ma sei full di tutto! E hai pure un barile! Sì, va meglio non fidarsi di quelle robe lì! Chissà quanto ci mettono dentro! Meglio mangiare roba sana! Vabbè, fai pure! Per carità! Non voglio creare discussioni in cui rischio di perdere neuroni! Ok, ne mancano sette! Siamo in top ten! E saliremo ancora dopo aver fatto fuori questo! Occhio mira bene! Ma perché mi hai preso? Eh, ma non vale però! Stavo ricaricando! Final round! Dai vano vias! Jokes! Ok, pronto per la più temibile di tutti? Temibile, esagerato! Manco fosse Mida! Eh, no! Ma alcuni dicono che sia la sua ragazza e altri la sorella! Cosa? Ma dai! Ma vanno tutte raccomandazioni qui! Ma no, è un caso! Sì, sì, certo! Comunque è furba la ragazza, eh! Se l'hai trovato ricco e soprattutto con le mani d'oro! Sai com'è fatta? Aspetta! Ma certo! Quella con il cuffo! Esatto! Ma dove sei finito? Eh, oh! Mi fai parlare e mi ristraggo! Dobbiamo andare alla vecchia agenzia comunque! Ah, bene! Ho pure ristrutturato la casa! Brava! Brava ragazza! Complimenti! Trova un modo di tornare lì al posto di parlare! Tranquillo, ho un'idea! Oddio, ho paura! Canna da pesca e... Via! Ah, lo sapevo! Ed eccoci qua! Ma eccoci qua cosa! Dove siamo finiti? Nel Wyoming? Ops, mi sa che mi sono perso! E poi, quell'orologio cos'è? Bravo, hai attivato una prova a tempo! Ah, spettacolo! Seguo il percorso? Tu che dici? Sì, pensate sì! Forza, muoviti! Non rimarranno lì tutto il giorno! Tranquillo, sono uno di quelli che fa i migliori tempi di Formula 1! Sarà una pasteggiata! E infatti ci sei riuscito per un pelo! Beh, sono dettagli! Bene, ora torniamo alla missione, per favore! Giusto! Manca il basfinale! Ok, magari lo sconfiggeremo nel prossimo tentativo! Ok, ora vai dritto all'autorità! Certo, approccio diretto! Ecco, magari non troppo, non si sa mai! Kulda, non ti ho sentito! A posto, siamo spacciati! Ci sparano! Oddio, non ci crederò! Oh mamma, ci ha massacrato lo scudo! E allora, massacriamo lei! E va bene! Sì, a terra! Credibile, ho pure usato la pistola! Salutami tuo fratello! Oh fidanzato! Oh, che ne so, vabbè, dai! Addio! Bene, ecco il cavo! Vai, 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 frega tutto! Oh, che spettacolo! Stavolta la vittoria reale non ce la taglia nessuno! Yes! Spazzito! A parte quella lì! Vabbè, l'importante è che ci sei riuscito, dai! Sì! Li ho battuti tutti! Sono io il vero boss! Certo! E ho anche una sorpresa per te! Ah, grazie! E cosa sarebbe? Fermo, ho prima un favore da chiederti! Aspetta solo un secondo, un attimo e... Fatto anche questo! Bene, complimenti! Questa era l'ultima! Hai sbloccato una nuova skin! Cosa? Ma non ho fatto nulla! In realtà, involontariamente sì! Hai completato tutte le sfide! Ah, pensa te! E chi ho sbloccato? Aspetta, te lo chiamo! Vieni pure! Dai, dai! Non vedo l'ora di combattere con... Oddio, non ci credo! Ehi, ciao Vano! Io sono Aquaman, il più fico di tutti! Oh, dai! Tutti, ma non lui! Avrei preferito pure l'uomo pentola! Ecco, lo sapevo! Dovevo immaginarmi che questo momento sarebbe arrivato! Ma perché proprio Aquaman? Prendete qualcun altro! Questo 2020 va di male in peggio! Bello ragazzi, questo era Fortnite Boss Battle! Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace! Soprattutto condividete e iscrivetevi al canale, se non l'aveste ancora fatto! E devo dirlo! Arriviamo il prima possibile a 15k like per un nuovo video con Aquaman! Bene, noi in ogni caso ci vediamo domenica con un altro nuovo video e... Bella! Ma perché? Ciao! Ciao! Ciao!